Ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1998 partecipando a Miss Italia con la fascia di Miss, Umbria, sino alle prefinali di San Benedetto del Tronto. È laureata in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari presso l'Università Bocconi di Milano con una tesi dal titolo Il caso Cirio Parmalat. Funzionamento dei mercati, tutela del risparmio, all'attivo dichiara di avere conseguito un diploma di recitazione edizione presso il CTA di Milano, di aver frequentato uno stage di recitazione all'Actors Studio di New York e di aver frequentato un laboratorio avanzato di recitazione tenuto da Beatrice Bracco a Roma. La sua carriera in televisione inizia come VJ per All Music e nel 2002 come Valletta al Paolo. Limiti Show, in onda su Rai 1. Nel 2003 è protagonista di Mousetrip, video degli insolito programmato nel circuito americano. DMTV, nel 2004 è inviata del programma con tutto il cuore. Finalista Avelline 2004, paperetta di paperissima e schedina di quelli che il calcio, nel 2006 raggiunge una maggiore notorietà, classificandosi al quarto posto nella quarta edizione del reality show L'Isola dei Famosi. Nello stesso anno partecipa al programma On The Road, in onda su Italia 1, e posa per uno dei calendari sexy della rivista Max, intervistata sulle ragioni che avevano spinto una bocconiana a sottoporsi volontariamente a una doloroso intervento chirurgico di mastoplastica additiva e a posare nuda. Ha così motivato, nel 2007 affianca Fabrizio Frizzi nella conduzione di due puntate di Mi Fido di Te, e nel 2008 debutta al cinema con il film Ultimi della Classe. Diretto da Luca Biglione, proprio con il film di Biglione ottiene il premio come migliore attrice non protagonista nella Seconda edizione dell'Invisible Film Festival di Cava de Tirreni. Nel 2009 affianca nella conduzione Paolo Bargigia nel magazine Inonda dopo le partite. Dell'Europa League su Rete 4. Nel 2010 è la terza testimonial. Dopo Manuela Arcuri e Karima Elmarag. Del libro Il labirinto femminile dell'avvocato e politico Alfonso Luigi Marra. Nello spot, che ha avuto un certo risalto mediatico. La Tommasi appare vestita come Osama Bin Laden. Per poi spogliarsi fino all'intimo. Negli anni seguenti collabora nuovamente con Marra. Nell'ambito di una campagna mediatica contro il signoraggio bancario. Spesso mostrandosi senza veli durante queste esibizioni. Nel 2011 è tornata sul grande schermo con il film Una cella in due. Diretto da Nicola Barnaba. Sempre nel 2011 partecipa anche nella puntata del 23 maggio della serie televisiva Fratelli. Detective. Interpretando Sara. Una delle accompagnatrici del presentatore del gioco televisivo I Sapientoni. Nel 2012 presenta il programma Celebrity Su Coming Sun Television. Nel 2015 è tornata a lavorare con Alfonso Luigi Marra in veste di consulente tecnica delle cause. Del signoraggio bancario. Nello stesso anno è diventata presidente dell'EMAI Marruvium. Una squadra calcistica di San Benedetto dei Marsi militante in seconda categoria e si è dedicata. Alla promozione dell'EMAI BHA. Un dolce creato dal padre.